Radio Radicale, siamo con Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia per parlare del voto in Basilicata perché oggi, guardando alcuni giornali come per esempio, non so, Repubblica, la notizia non fa proprio capolino se non in un catenaccio in basso con due parole per scrivere che la Basilicata ha meloni. Allora, che importanza ha avuto questa vittoria? Ho visto che tra di voi c'è stata questa discussione mentre loro facevano una cosa su Scurati, alzavano il polverone, noi vincevamo in Basilicata. Guardi, questa è una cosa che accade da tempo, tra l'altro nella mia regione, in Frivenezia Giulia, da tempo si è dimostrato come il centro-destra sia fermo ai problemi del paese, voglia provare a governare, a migliorare le condizioni del paese e quindi si parla di cose concrete e pragmatiche. A sinistra si prova a fare un'opposizione basandosi su quei pochi strumenti o armi che sono rimasti a loro disposizione. In concomitanza del 25 aprile si arrivava ad accusare di censura il governo Meloni per qualcosa che è accaduto all'interno della RAI. Di certo non c'è stata alcuna volontà politica, tant'è che la presidente Meloni ha pubblicato sul suo profilo social quel monologo, che sicuramente ha avuto più visualizzazione, ha ottenuto più risalto rispetto a quante avrebbe ottenute se fosse rimasto soltanto nel contesto di R3. Ma detto questo, parlando di cose legate alle elezioni in Basilicata, è la dimostrazione che il centro-destra, governato bene, è stato premiato. Di fronte a chi governa, delle volte assume anche delle scelte che possono essere popolari, ma se viene riconfermato vuol dire che c'è un riconoscimento da parte dell'elettorato, dei cittadini, in un programma elettorale per fare in modo che il Paese migliori. E su questo siamo fiduciosi, anche Fratelli d'Italia ha fatto un ottimo risultato, confermando quanto già aveva fatto alle politiche, dimostrando che... Ha preso qualche punto in percentuale, mi sembra 5 punti, aveva il 19%, ma qui ha beccato il 25%. E quindi la dimostrazione è che il partito, nonostante anche il livello nazionale, abbia dovuto adottare delle scelte impopolari, viene riconosciuto come ci sia la volontà di migliorare il Paese. E su questo ormai il centro-destra, unito con un governatore che riscuote successo tra l'elettorato, può essere premiato. D'altronde a sinistra vediamo che stanno continuando ad arrampicarsi su tematiche slegate da quelli che sono i problemi del Paese. E questi sono i risultati che un giornale come Repubblica oggi ha cercato di mettere, non dico all'angolo, se non addirittura censurare. Allora, oltre a questo, è entrato in questo voto per la Basilicata, anche un'altra valutazione, ovvero il fatto che hanno gettato su Calenda, e un po' meno per Renzi, perché Renzi forse è un po' più furbo, tutta la responsabilità della sconfitta in Basilicata. Come ha trovato questo escamotage? Allora, se è colpa di Calenda, voi avete vinto per merito di Calenda? Guardi, io ho fatto sport di squadra fino a quando il fisico me l'ha consentito. Quando si è in una squadra non si cerca chi è responsabile di una sconfitta. E probabilmente questo significa che il centro-sinistra non è squadra. Le alleanze le fa a seconda della necessità, le alleanze le fa contro qualcuno, non le fa per qualcosa. Ecco allora che si dà la colpa a qualcuno per aver perso, non si prende mai la propria responsabilità. Forse in casa del centro-sinistra, del PD, dovrebbero guardare più loro stesse e capire per quale motivo non hanno mai il risultato positivo da parte dell'elettorato. Questa vicenda, un po' il canto del cigno, del campo largo dopo quello che è successo in Puglia? Quello che lei ha visto, insomma. Questo non saprei dirglielo se è il canto del cigno. Certo è che questo campo largo è stato citato molte più volte di quanto in realtà effettivamente è. Perché probabilmente questo campo largo forse non esiste. Bene, la ringrazio. Grazie a Emanuele Loperfido di Fratelli Italia con il quale abbiamo commentato il voto in Basilicata di come anche l'hanno trattato alcuni giornali. Grazie.